mamma mia ma quanti gradi ci sono oggi se ce ne sono fammi vedere come il tempo fa ok direi che fa abbastanza freddo stasera non mi importa copertina netflix e via non ho voglia di uscire perché ma perché non mi copri forse sono troppo corta genio e l'avevo capito ma non puoi fare qualcosa e si cosa faccio mi allungo non sono mica di gomma ma scusa l'altra volta mi coprivi completamente com'è possibile no ma stavo scherzando è che aspetta ho capito devo essere aumentato di statura finalmente ma sei quasi 30 anni esagerata ne ho 24 e ma lo sai che dopo 18 scorre tutto più velocemente e pensa che sto pure sprecando il mio tempo per parlare con una coperta è comunque la cosa più interessante che tu abbia fatto oggi ma non è assolutamente vero no ma se con la scusa del freddo non ti muovi neanche di casa eh vabbè ma mi do da fare in casa non è che sto qua con le mani in mano ma se ti sei messo tutto il tempo a vedere il trono di spade la casa di carta e pure straggia finks sì vabbè non è che ero tutto il tempo attaccato ci ho messo anche un bel po' eh in un giorno ok ma alla fine non erano così lunghe come serie ma saranno 60 minuti episodio per 99 episodi eh ma alcune puntate erano più corte poi come hai fatto scusa saranno 200 giorni più o meno beh ho anche saltato alcune parti tipo beh per esempio del trono di spade tutto ciò che riguardasse draghi o combattimenti mi mettevano ansia ecco scusa quindi praticamente non hai visto nulla vabbè il trono l'ho visto lasciamo perdere in stranger things invece immagino le scene horror giusto no in realtà avevo paura della bambina è inquietante ecco beh effettivamente quello posso capirlo eh vedi sì ma aspetta posso capire la power stranger things eh un po' meno l'ansia del trono di spade ma scusa che problemi c'erano nella casa di carta me lo chiedi pure non hai visto quelle maschere erano qualcosa di terrificante oddio non ci credo vabbè ci rinuncio ecco piuttosto dammi una mano che non so cosa scegliere oggi ma guarda in base a quello che mi hai detto ho una serie perfetta per te ma dai c'è le casta john sparks lily snodden fine more were a banks and richard riding ma sentiti fammi cercare ma sono i doppiatori di peppa pig eh oh è l'unica cosa che riesci a guardare per intero spiritosa comunque non mi hai ancora coperto e ti va bene che il black friday fosse ieri se no ti avrei già sostituita ma è da due ore che cerco di spiegarti che oh scusa mi hai ragione ho finalmente capito ma non è quello allora che cos'hai mi hai messo al contrario ahhh